Giorgia Meloni deve aver finito i bei discorsi, quelli scritti, belli, ritmati e incagliata nel ripetere sono una madre e nell'accusare di vilipendi allo Stato chiunque avanzi i dubbi sull'operato del suo governo di tenersi Stato e popolo in un vizio antico dalle sue parti, ieri alla Camera la Presidente del Consiglio durante il dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo inciampa in una maggioranza che si presenta compatta quando c'è da incassare ma sfibrata quando le tocca fare politica. La fotografia dell'inizio della seduta non ha bisogno di analisi, ai banchi del governo mancano tutti i ministri leghisti dopo l'imbarazzo di Salvignani già al Senato e a parlare per la Lega si scrive solo il deputato Stefano Candiani. Le parole del capogruppo al Senato Massimiliano Romeo risuonano ancora. L'obiettivo della cessazione e delle ostilità sembra più una dichiarazione di principio, aveva detto l'altro ieri Romeo nel suo intervento. La questione di rimente però non è nulla di umanitario, sia chiaro, non preoccupatevi. Litigano sulle nomine principalmente, anche in questo caso gli ucraini sono solo le leve utili. La replica della Presidente del Consiglio alle opposizioni è un putpurrì di inesattezze, di tecniche ormai ritrite. C'è la solita accusa di calunnia sulla strage di Cutro, è una calunnia non solo del governo ma nei confronti dello Stato italiano, degli uomini, delle donne, delle forze e dell'ordine del nostro intero sistema, dice Meloni, senza dirci una parola sui verbali della Guardia di Finanza invece che smentiscono in toto la ricostruzione del governo. C'è il vittimismo d'accatto, siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro a volte fuori dai confini nazionali e addirittura la riesumazione del blocco navale che ora Meloni vorrebbe rivendere come operazione umanitaria europea. Nessuna risposta nemmeno sulla siccità, al di là di una pietosa battuta che non fa ridere. Presumo che lei, dice a Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra, non voglio dire che in cinque mesi ho prosciugato l'Adige, nemmeno Mosè, io non sono Mosè caro Bonelli, la ringrazio che mi riconosca questi poteri ma non li ho. E poi l'accusa al Movimento 5 Stelle e al Pacifisti di voler aiutare Putin. Ma il dato politico che spiega la giornata è il voto sulla risoluzione dei partiti di maggioranza che in alcune parti ha incassato l'appoggio del cosiddetto terzo polo in un percorso di avvicinamento lento ma inesorabile. Bocciate invece le risoluzioni di Movimento 5 Stelle, PD e Alleanza Verdi Sinistra. C'è un'ultima curiosità, Giorgia Meloni è uscita dall'aula poco prima dell'intervento della Lega. Anche questa sarà una coincidenza o un vilipendio peggio. Grazie a tutti.